Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Teleitalia. La domanda posta è secondo voi la famiglia Berlusconi impedirebbe la privatizzazione della RAI con la conseguente eliminazione del tetto alla pubblicità? O meglio, la domanda riformulata meglio, secondo voi la famiglia Berlusconi impedirebbe la privatizzazione della RAI che avrebbe poi la conseguenza principale di togliere il tetto alla pubblicità e di far calare il fatturato di Mediaset. La maggioranza, il 68% su 5.900 risposte, è convinta che i Berlusconi all'interno del governo impedirebbero. Questa riforma, il 24, è convinto di no, mentre l'8% risponde non saprei. Grazie a tutti e buon procedimento. Grazie.